Meritato, stra-meritato perché sei una delle persone che ogni mese riesce a coinvolgere con un plato, a far abbracciare il nostro cliente di vita a tanti, tanti nuovi clienti. Qual è il mio segreto? Visto che spesso ci chiedono e tutti vogliono sapere i quali segreti. Innanzitutto voglio dirvi grazie, oh mio Dio, penso di essere emozionata a mille per la prima volta, grazie. Il mio segreto, io adoro Juice Plus, adoro questa attività, io parlo di me, racconto di me, di come è bella la mia vita da quando ho incontrato Juice Plus. Di come è bella la mia vita di quando ho conosciuto, quando conosco ogni singola cliente, quando conosco ogni singola distributrice, diventa la mia famiglia. io passo questo messaggio di semplicità, di sogno aperto a tutti e di determinazione. Visto che sono qui, ho visto grandi ringraziamenti e voglio ringraziare Claudia. gliel'ho sempre detto, lei ha cambiato la mia vita, ha tirato fuori la vera Sara. Io adoro quella che sono diventata. Spero ognuno di voi un giorno dire, io mi amo, io sono nel posto giusto, io sono quello che voglio essere. Grazie. Bravo! Mientras tanto, ha llegato anche il video.